Musica Ultimo saluto a Massimiliano Bartolotti, tanta gente per l'imprenditore dei d'impianti scistici. Concerto di The Colors, programma d'Avezzano l'8 settembre, mercoledì, la presentazione. Tormentone dell'estate avezzanese, Tiziano Genovesi, dell'ACI, interviene sulla pista ciclabile. Calcio, è iniziato il campionato d'eccellenza, partenza e difficoltà per le squadre marsicane. Un grande saluto dagli studi di Antenna 2, grande partecipazione dei cittadini dunque, ma anche esponenti politici a livello regionale, provinciale, locale, oltre che di amici, parenti, oggi pomeriggio ad Ovindoli, per l'ultimo saluto a Massimiliano Bartolotti, uno degli imprenditori di maggiore successo di Ovindoli, deceduto la notte di sabato scorso per cause naturali a 51 anni. Funerali si sono svolti nella chiesa di San Sebastiano di Ovindoli. Il rito funebre è stato ufficiato dal parroco del paese Don Bruno, che nell'omelia è esaltato le doti umane ed imprenditoriali di Massimiliano, titolare degli impianti, come detto da sci, di Ovindoli, e presidente della DMC Abruzzo. Un toccante ricordo è stato proposto dal sindaco di Ovindoli, Simone Angelo Sante, che avrebbe detto la vicinanza alla famiglia in un momento così tragico. La morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco. Inutile, si è rivelato l'arrivo dei soccorsi del 118. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e il medico legale, che ha accertato le cause naturali della morte, che sarebbe avvenuta nel sonno. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati familiari, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Tutto, purtroppo, è stato inutile. Ma se Emiliano Bartolotti era nato a Ravenna, è già da piccolo con il padre Giancarlo, è arrivato in Abruzzo qualche anno prima, trasferendosi con la famiglia Dovindoli per iniziare quella che sarebbe diventata una delle principali realtà turistiche e imprenditoriali della regione. Per il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, presente ai funerali, la scomparsa di Bartolotti è una grande perdita per l'intera regione Abruzzo. Il territorio aquilano ha giunto il primo cittadino del capologo abruzzese. Perde un amico. Per Stefania Pezzopane, anche lei presente a Rito Funeber, assieme a tanti altri esponenti politici, si è trattato di una morte assurda. Sono sconvolta da questa morte così dolorosa e inaspettata. Tra gli altri, il presidente della regione Giovanni Lolli e il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio. Il cordoglio di Confcommercio provinciale per la scomparsa di Massimiliano Bartolotto viene espresso in una nota dal direttore del presidente Celso Cioni e Roberto Donatelli. Abbiamo appreso con profondo dolore della prematura ed improvvisa scomparsa di Massimiliano Bartolotti, che ci colpisce ed addolora. Uno straordinario imprenditore capace e coraggioso, sempre con lo sguardo orientato al miglior futuro della nostra terra, appassionato delle nostre meravigliose montagne, costantemente al centro delle sue quotidiane, di incessante tensioni realizzative che hanno caratterizzato in positivo non solo la crescita del momento, del solo profitto aziendale, ma la più complessiva visione del progresso sociale ed economico della nostra regione ed autentico epilogo dello sviluppo delle aree interne abruzzesi. Purtroppo non potremo più vedere il suo sguardo sincero e il suo sorriso gentile che ci mancheranno per sempre. Abruzzo Intero ha perso uno dei suoi figli migliori e a cui ognuno di noi dovrebbe dire grazie per quanto ha concretamente fatto, così come dovrebbe essere grato al suo padre Giancarlo, pioniere del turismo montano abruzzese e dal quale unitamente a tutta la sua famiglia vanno i nostri sinceri e sentiti sentimenti di cordodio e di affetto che hanno sempre caratterizzato in positivo i rapporti di appartenenza alla nostra organizzazione. Nel prossimo mese di ottobre proporremo di assegnare il premio Tenaci Conf Commercio alla memoria del nostro associato per tanto amore ed impegno donato alla causa del progresso economico e sociale dell'Abruzzo Montano. Il gravissimo incidente mortale di ieri sull'autostrada A25 in direzione Pescara, una donna di 54 anni di Roma ha perso la vita e il marito e figli sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'elisocorso del 118. Il più grave è il figlio di 25 anni, ricoverato all'ospedale dell'Aquila, feriti anche il conducente e la figlia minore. L'incidente per la precisione si è verificato intorno alle 13.30 nel tratto compreso tra Pescina e Cocullo in direzione Roma-Teramo. L'auto sulla quale la famiglia romana viaggiava si è ribaltata. La donna romana che ha perso la vita è Patrizia Pastore. Viaggiava a bordo di una Nissan insieme alla famiglia. Alla guida dell'auto c'era il marito della donna, docente all'Università della Sapienza di Roma. La cosa ancora da accertare è il mezzo sbandato ribaltandosi più volte. Il corpo della 54 anni è rimasto incastrato tra le lamiere con torte ed è stato estratto dai vigili del fuoco della polizia stradale di L'Aquila. Nello schianto è rimasto gravemente ferito, come detto, il figlio 25 anni della coppia. Miracolosamente lesi il marito e la figlia. Madre di quattro figli, Patrizia Pastore, era impegnata nel sociale, in particolare nel settore dell'assistenza. alle donne emarginate e vittime di violenza. Mercoledì 5 settembre alle ore 12 nella sala consigliare del municipio di Avizzano conferenza stampa di presentazione del concerto The Colors in programma in piazza di sorgimento. Il giorno, ricordiamo, 8 settembre. Parteciperanno il vice sindaco Lino Cipolloni, l'assessore della cultura Pierluigi Di Stefano e gli sponsor che hanno contribuito a rendere possibile l'evento. Tiziano Genovesi, vicepresidente dell'ACI L'Aquila, interviene su quello che sembra essere diventato il tormentone dell'estate avizzanese. La pista ciclabile afferma per una città rappresenta un segno di progresso, questo nessuno può negarlo, soprattutto quando questa viene realizzata con fondi ministeriali, quindi a costo zero per la comunità. Ma voglio analizzare e lanciare qualche spunto in merito per fare un po' di chiarezza su tutti i pro e di contro. Personalmente sono a favore della pista ciclabile, ma sono contro il metodo con il quale si è arrivati alla realizzazione. Capisco che i tempi per la partecipazione al bando erano strettissimi, ma a mio avviso era necessario coinvolgere meglio anche i cittadini e le associazioni di categoria che avrebbero potuto dare spunti interessanti per renderla migliormente fruibile a tutti. La soluzione più funzionale sarebbe stata quella della realizzazione di un piano urbano della mobilità sostenibile, che come obiettivo principale deve creare un sistema urbano integrato di trasporti, così da permettere a tutti i cittadini di migliorare le condizioni di sicurezza, ridurre l'inquinamento atmosferico acustico, le emissioni di gas inquinanti e migliorare i consumi energetici. In caso di utilizzo dell'auto privata, sia per i residenti che per i pendolari, si doveva pensare a realizzare due parcheggi di scambio alle porte della città ed uno a ridosso del centro, in modo da recuperare i parcheggi persi e non danneggiare le attività commerciali. In questi parcheggi, inoltre, era necessario realizzare dei punti per il backsharing, ossia noleggio aure di biciclette, e per incrementare e permettere la mobilità a due ruote in città in maniera snella e veloce. Un altro snodo dove poter prendere a noleggio una bici dovrebbe essere al terminal di Piazzale Kennedy, in modo che tanti ragazzi che arrivano da Vezzano, da tutta la Marsica, possono girare la città con la bicicletta. E con un piano urbano della mobilità sostenibile, prosegue Tisano Genovesi, si doveva poi pensare a programmare una massiccia campagna di formazione all'interno delle scuole elementari e medie della città, come già fatto da ACI, qualche anno fa nel plaesso scolastico Mazzini Fermi, per educare tutti i ragazzi ad un sano e corretto utilizzo della bicicletta e della pista ciclabile. Un ultimo bisognava prendere una serie di incentive bonus e prevedere per tutti i dipendenti, statali nonne, attenzionati ad utilizzare la bicicletta al posto dell'autovettura. Il comitato spontaneo salviamo la scuola di Balsorano. In un comunicato esprime rammarico per la scelta dell'amministrazione comunale di Balsorano di continuare nel progetto di riorganizzazione suggerito dal comune di San Vincenzo-Valleroveto e subito dagli abitanti e senza poter discuterne minimamente. Si decide di spostare una scuola media da Balsorano e San Vincenzo, nonostante i numeri della popolazione scolastica, delle scuole secondarie di primo grado, siano sproporzionalmente a vantaggio di Balsorano. Infatti si spostano 81 bambini, dove ce ne sono 14. Si decide senza tener conto delle enormi difficoltà che si riscontreranno nella gestione dei trasporti, senza considerare i pericoli di un trasporto su un tratto di superstrada, tra i più pericolosi della Vezzano-Sora. Si decide frettolosamente con un consiglio di martedì del 4 settembre, alle ore 12.30, a meno di una settimana dalla ripresa delle attività scolastiche, dopo che il TAR aveva annullato la delibera di giunta con sentenza depositata il 14 agosto scorso. Una data decisa per evitare il confronto con la gente. Insomma, l'amministrazione comunale persevera nel disegno di cancellazione di una delle istituzioni scolastiche, basandosi su presuppose surdi e su obiettivi che non saranno mai raggiunti. Si decide contro la popolazione di Balsorano. Per questo saremo tutti a protestare al prossimo imminente Consiglio Comunale ed invitiamo tutti i balsoranesi che hanno qua il nostro Paese a partecipare. Il Comitato infine ringrazia i consiglieri di opposizione che hanno ottenuto un comizio ieri in Piazza Scacchi. Si dichiara disponibili a supportarli in tutte le iniziative di lotta annunciate. Questa società è decotta, finita. La gestione della fusione delle aziende del trasporto pubblico abruzzese che ha dato vita a Tua Spa è stata un fallimento. Per questo chiediamo l'azzeramento dei vertici aziendali. Ospichiamo che la Giunta regionale, che dopo la sanità, registra un fallimento anche sui trasporti, vada finalmente a casa. Così Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, questa mattina in conferenza stampa a Pescara, illustrando il dossier intitolato La fusione del fallimento, i conti che svelano la situazione di Tua. Pettinari ha rilevato che sono aumentati i costi per i cittadini e nel contempo sono diminuiti i servizi. I chilometri su cui è erogato il servizio di trasporto pubblico sono diminuiti. Eppure abbiamo un maggior numero di costi per materiali di ricambio, ha proseguito l'esponente del Movimento 5 Stelle. Il personale per sicurezza e manutenzione è stato ridotto, ma sono aumentati i dirigenti, sono stati spesi soldi per combattere l'evasione dei biglietti, ma sono aumentati i viaggiatori senza titolo di viaggio. Conclusione Pettinari ha affermato che ora a fine legislatura la maggioranza chiude la porta dei 5 anni di centro-sinistra, indebitando l'azienda dei trasporti per ulteriori 15 milioni verso le banche. Maurizio Di Nicola, consigliere regionale delegato ai trasporti, chiarisce alcuni aspetti dell'intervento di Pettinari. Tra l'altro evidenzia che Pettinari sciorina dati contabili, estratti senza alcuna visione, d'insieme. E per parte mia non posso che rivedere che a fronte di minori trasferimenti statali al settore dei trasporti, abbiamo garantito il servizio efficientando con la fusione il soggetto operativo TUA, che chiude il suo bilancio depositato, altro che chiacchiere inutili. Contemporaneamente abbiamo disegnato la rete dei servizi minimi attesa da più di 20 anni e ci accingiamo a predisporre il conseguente piano strategico triennale per eliminare le sovrapposizioni, rivedere orari e adeguare le rotte di traffico alle nuove esigenze dell'utenza. Inoltre la società pubblica sangaritana, partecipata da TUA SPA, scende nel libero mercato per competere quale vettore interamente pubblico, con le imprese private in quelle relazioni di traffico, dove la concorrenza è elevata, la qualità a favore dei cittadini, il tutto con mezzi più nuovi messi su strada per vincere questa competizione a mercato. Abbiamo ridotto il costo del servizio nelle aree interne, sapendo che si tratta dei prezzi tra i più bassi d'Italia. I consiglieri della maggioranza di centro-sinistra che governa la regione Abruzzo si sono riuniti oggi a Teramo, in vista delle prossime elezioni regionali. E non comunicato si specifica che è stata ribadita la volontà di allargare l'area politica a tutti i soggetti che fanno riferimento ai valori di solidarietà sociale, crescita economica diffusa e sviluppo sostenibile, per opporsi alle visioni destrosse e populiste che caratterizzano l'attuale governo nazionale. I partiti del centro-sinistra dovranno mettere al centro della scena le migliori espressioni della società civile abruzzese e per far questo occorre un candidato presidente forte e autorevole che sappia dialogare con tutti e che non si è indicato nel chiuso dalle stanze romane, ma dal territorio. L'Abruzzo è un nostro preciso identitano, deve diventare terreno di scontro della maggioranza nazionale. Il centro-destra, in curante dei bisogni di questa regione, vuole utilizzare le elezioni per effettuare prove di forza sulla pelle della nostra comunità. Nelle prossime settimane sarà fatta una diffusa iniziativa politica per affrontare i problemi degli abruzzesi. E dal centro-sinistra passiamo al centro-destra con le considerazioni di Nazario Pagano, di Forza Italia, Giuseppe Belachioma, della Lega, Eter C. Gismondi e Gian Donato Morra, di Fratelli d'Italia e di Enrico Di Giuseppe Antonio, dell'Udc. Nella nota congiunta scrivono Il voto per la regione Abruzzo è un'esigenza irrinunciabile e non rinviabile di tutta la comunità abruzzese che non merita di subire questo silicidio di immobilismo dovuto alla sfrenata ambizione di personaggi abili nei giochi di prestigio e nelle tecniche dilatorie. La fissazione della data del ritorno alle urne deve compenetrare il rispetto delle leggi umiliati da quanto accaduto dopo il 23 marzo nonché l'esigenza di fornire in tempi brevi alla regione una guida autorevole legittimata dal consenso democratico degli elettori. Ogni giorno che passi i robinetti dell'immobilismo e dello spreco continuano a spargere risorse. Qui l'Abruzzo è invece un disperato bisogno per emergere dalle secche in cui è stato condotto da una politica tanto miope quanto personalistica e veleitaria. Non possiamo permettercelo non possiamo permetterlo per questi motivi il centro-destra unito fa voti affinché venga sciolta al più presto ogni riserva sulla data delle elezioni nel pieno assoluto rispetto delle istituzioni e delle procedure. E' auspica che legittimamente venga restituita la parola di Abruzzesi entro quest'anno che sapranno così scegliersi di uomini e le donne gli indirizzi che diano risposte ai problemi più pressanti dai lavori all'economia e alla ripresa allo sviluppo. Nell'organizzazione, i programmi e l'idea per dare un futuro migliore alle nuove generazioni le allianze in vista delle prossime elezioni regionali in Abruzzo. Di questo si discuterà nel comitato regionale dell'Udc convocato dal segretario regionale Enrico Di Giuseppe Antonio per venerdì prossimo 7 settembre alle ore 17.30 da presso l'Hotel Iacone in Viera Abruzzo 372 Chieti Scalo di fronte allo stadio Angelini. Nell'invito si legge che sarà una discussione tutto tondo con gli interventi dei coordinatori provinciali di Chieti Andrea Burracchio di Pescara Walter Cozzi di L'Aquila Lino Cipolloni e di Teramo Berardo De Semplicio che riferiranno sulla situazione politica nei loro territori. Nella discussione troveranno spazio le proposte di amministratori locali un'analisi importante che ci consentirà di fissare i punti programmatici dell'Udc in vista delle regionali sottolinea il segretario regionale Di Giuseppe Antonio vogliamo essere pronti a dare il nostro contributo di idee ma anche di persone in grado di rappresentare le istanze dei nostri territori il nostro è da sempre partito vicino alla gente capace di rappresentare le esigenze delle comunità locali garantire opportunità di sviluppo sociale ed economico all'Abruzzo e passiamo ora alla pagina sportiva con il calcio nel turno di Coppa Italia di Saridi Lavezano ha subito una dura sconfitta sul campo della Vestese 3 a 0 il risultato finale che elimina i biancoverdi dalla competizione deve far riflettere in vista dell'inizio del campionato che come noto ci sarà domenica 16 settembre ed è iniziato il campionato di eccellenza il paterno in casa non è dato oltre il pareggio 1 a 1 contro i nero stellati mentre il capistrello è stato sconfitto fuori casa per 2 a 0 dalla formazione del Delfino Pescara ora vi proponiamo il servizio del pareggio del paterno vediamo la partita dei rimpianti sia per il paterno che per il pratola in questa prima di campionato sia gli uni che gli altri avrebbero potuto portare via la vittoria ma le circostanze hanno alla fine deciso che forse era meglio il pareggio un punto ciascuno che però non ha accontentato nessuno il paterno che in vantaggio dopo soli 6 minuti avrebbe potuto gestire diversamente la gara e il pratola che con un uomo in più per quasi 80 minuti avrebbe anche potuto osare un tantino di più ma siamo solo all'inizio del campionato e tempo per registrare i meccanismi ce n'è in abbondanza 6 minuti dicevamo e il paterno passa a condurre c'è una rimessa laterale proprio sotto la tribuna Fellini lungo per Mercogliano che controlla e cambia gioco dalla parte opposta dove arriva Manuel Cancelli che aggancia e supera Big & Comer in uscita bassa sembra tutto facile per i nerazzurri che continuano a mantenere saldo il possesso della palla e a gestire il gioco ma poco prima del quarto d'ora Di Fabio entra in maniera scomposta su un diaie e l'arbitro gli mostra impietosamente il cartellino rosso ci si aspetta che adesso sia il pratola a menare le danze ma non è così almeno non subito perché al diciannovesimo Mercogliano va a battere una punizione che per poco Moro non trasforma in metallo preziosa ancora paterno due minuti dopo cross dalla sinistra di Cancelli e sulla deviazione di un difensore la palla picchia sul palo a portiere battuto e torna in campo al quarantesimo si vede finalmente anche il pratola che sulla battuta di una punizione dalla tre quarti manda l'avanzato Cissè a colpire di testa impegnando severamente Di Girolamo e allo scadere della prima frazione i nerostellati agguantano il pari e lo fanno in maniera alquanto rocambolesca ma andiamo per ordine Ndiaie cade in area simulando l'intervento del difensore ma l'arbitro lascia proseguire allora Di Girolamo si sente in dovere di redarguire l'avversario forse in maniera che il direttore di gara ritiene poco urbana così che arriva il fischio di Iekumere che assegna la punizione a due in area inutili le proteste siamo però a cinque metri dalla porta e sul tocco corto Ndiaie insacca proprio sotto l'incrocio dei pali uno a uno e tutti negli spogliatoi nella ripresa i nerostrellati osano maggiormente mentre il paterno deve fare i conti con l'inferiorità numerica e con le energie che inesorabilmente sono sempre di meno e per 20 minuti non accade praticamente nulla al ventunesimo però sbagliano prima Tabacco e poi Mauti e ci vuole tutta l'abilità di Di Girolamo per evitare la rete al passivo poi inizia il solito waltzer delle sostituzioni e la qualità del gioco scade in proporzione al quarantesimo una punizione di Tabacco obbliga Big & Comer alla respinta a pugno uniti altri due minuti e su azione di contropiede il Pratola spreca a sua volta una ghiottissima opportunità per vincere ma la pezza a colore è merito di Di Girolamo che nella circostanza dimostra di essere ancora un valido estremo difensore inutili anche i quattro minuti di recupero Paterno e Pratola partono con un pareggio che probabilmente non soddisfa nessuna delle due Prima di campionato un punto soltanto per il Paterno e uno per il Prato Presidente Di Gregorio una partita con tanti rimpianti tantissimi perché la partita si era messa benino e poi sono state delle valutazioni errate a nostro sfavore che poi sono state decisive praticamente ovviamente l'espulsione non era perché era chiaramente un fallo non da ultimo uomo come l'ha ritenuto l'arbitro però ha espulso il giocatore nostro rimanere in dieci dopo dieci minuti è pesantissima comunque poi abbiamo giocato la partita sempre per cercare di vincerla ma anche correndo dei rischi con una persona in meno per ottanta minuti quindi accettiamo pure il risultato così quasi volentieri Paterno che nei tre anni precedenti insomma è stato lì per vincere il campionato e poi gli ha mancato l'ultimo quiz insomma e anche un po' di fortuna quest'anno che tipo di campionato volete fare? ma vediamo un po' come va il nostro campionato nelle prime partite poi valutiamo tantissime cosine e certo stiamo osservando un po' tante cose per mettere riparo o continuare pure così avendo fiducia nei ragazzi che abbiamo è arrivato Cristiano Colella tecnico del Pratola una partita quasi giocata interamente in superiorità numerica che cosa vi è mancato per vincere? Le occasioni nel secondo tempo le avete avute? No vabbè le occasioni ci sono state ma c'è da dire che abbiamo giocato una delle più brutte partite fino adesso tra precampionato e Coppa Italia abbiamo iniziato molto male la partita potevamo fare sicuramente molto molto meglio poi c'è stato l'episodio dell'espulsione a volte giocare 10 contro 11 non è mai detto che ci sono dei grandi vantaggi a volte ho visto vincere squadre in 10 perché proprio cercavano qualcosa in più o cercavano di tirare fuori qualcosa di più di quello che uno ha però ovviamente le occasioni sono state dovevamo fare molto molto di più c'è ancora da lavorare tanto un punto che vi lascia un po' con la mare in bocca ma la mare in bocca bisogna dire che il pareggio è arrivato al 45 nel primo tempo e forse è arrivato nel momento migliore perché poi finire il primo tempo sull'1 a 1 sicuramente ci ha tranquillizzato però la mare in bocca solo per un paio di nitidissime palle e gol che abbiamo avuto non siamo riusciti a sfruttare però fondamentalmente per il gioco espresso da noi e da loro penso che il pareggio forse era il risultato migliore grazie e chiudiamo con Antonio Torti una partita che era iniziata bene il gol del vantaggio poi l'espulsione poi quel gol preso in maniera assurda che è successo oggi un po' di tutto ma no secondo me l'arbitro in partita sull'espulsione è stato un po' troppo frettoloso perché a parte che non era ultimo uomo quindi voglio dire tu l'ho fatto un fallo normale e gli ha anticipato la palla il giocatore quindi di conseguenza secondo me era giusto dargli il giallo però al di là di quello poi sul gol diciamo che lui ha un minuto di Girolamo perché magari lui era andato sul sul DAE perché è caduto da solo a dirgli di non cadere di non provarci sempre e lui l'ha munito tra l'altro lui voleva riprendere il gioco scodellando la palla invece l'assistente dall'altra parte ha detto che per regolamento ha munito punizione a due dentro l'aria noi all'ultimo minuto abbiamo preso un gol che non esiste però i ragazzi hanno fatto un buonissimo primo tempo il secondo tempo è stato di sofferenza però non abbiamo mai come si dice rinunciato poi a cercare anche la vittoria esponendoci anche a qualche contropiede perché era normale però devo dire che i ragazzi hanno fatto una buona partita in parità numerica sarebbe stata un'altra gara sicuramente secondo me sì secondo me sì perché fino a quel punto lì loro non avevano mai tirato in porta noi abbiamo fatto il gol abbiamo avuto qualche altra azione abbiamo preso un palo su una deviazione fortuita loro loro ripeto non hanno avuto il primo di riemporte che hanno fatto è stata la punizione di fatto Moro unica punta di questo paterno ormai mi pare che sia questa la squadra standard no unica punta perché noi quei due esterni Cancello e Mercogliano dovevamo andare a accompagnare quello che abbiamo fatto bene poi il primo tempo è ovvio che il secondo tempo 4-4-1 ancora di più Moro è ovviamente rimasto da solo perché dovevamo cercare di portare a casa questo risultato provarci sempre come abbiamo fatto ed è ovvio che quando hai due persone vicine o una persona vicina è diverso però noi abbiamo impostato la partita in quella maniera sapendo che loro due esterni qualche difficoltà ce l'avevano e di fatto poi è successo così il primo tempo è ovvio che poi quando una persona con una persona in meno prendi un gol in quella maniera forse anche a livello mentale un po' la squadra all'inizio un po' a risentire però devo dire che poi ripeto nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di andare anche a vincere la partita ci abbiamo provato è uscito questo pareggio per me ripeto i ragazzi sono stati belli e con lo sport termina qui questa edizione del giornale prima dei saluti noi vi ricordiamo come sempre che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni vi lasciamo dalle previsioni del tempo grazie anche oggi per averci seguito e arrivederci salve e ben ritrovati vediamo dall'immagine grafica che cosa sta succedendo continueranno lo stesso ad affluire correnti relativamente fresche e instabili che localmente daranno luogo ancora ad un po' di nuvolosità e ad una residua instabilità sulle regioni del centro sud e del sud Italia sui Balcani la situazione andrà via via peggiorando torniamo a noi dall'immagine successiva che cosa succederà dal mattino bel tempo bel tempo su tutta la nostra regione Abruzzo al pomeriggio peggiora lievemente ci sarà della nuvolosità variabile e sulla fascia adriatica il peggioramento sarà più significativo a causa delle infiltrazioni d'aria più fresca infatti nel corso delle ore diurne e serali della giornata tenderanno a formarsi rovesci o temporali sul versante orientale appenninico e sulla zona collinare e costiera della nostra regione Abruzzo andrà meglio sulla Marsica dove le nubi si alterneranno ad ampi spazi di cielo sereno e soleggiati e in effetti il tempo sarà più asciutto sul nostro territorio occidentale le temperature massime saranno in nuovo aumento certo non si tratterà di un aumento significativo comunque saranno tipiche di inizio settembre le temperature minime invece saranno in forte diminuzione specie sulle nostre zone interne in montagna farà addirittura moderatamente freddo molto fresco di notte e al primo mattina fresco anche nel corso delle ore serali allora vediamo l'indice raggi ultravioletti che si manterrà ancora tra il moderato e il forte scenderà sulla fascia costiera a causa delle nubi temporalesche in aumento grazie e al prossimo aggiornamento meteo grazie grazie grazie